Martedì 1 febbraio, oggi una giornata importante, in questa data entra in vigore anche l'obbligo del Green Pass base in alcune attività commerciali, nella gran parte delle attività che non riguardano i generi di prima necessità. Green Pass che non serve invece al mercato. Oggi siamo al mercato San Decenzio, primo di febbraio, una giornata di sole assolutamente piacevole per essere nel cuore della giornata invernale. Un po' più di movimento rispetto alle ultime settimane, non abbastanza per soddisfare ambulanti che lamentano comunque un certo stato di crisi per quello che riguarda l'attività, vuoi per quello che sono le conseguenze dei contagi, vuoi per quella che è l'ubicazione particolare del mercato San Decenzio che continua a non essere il massimo del gradimento per gli esercenti. Purtroppo questo clima nonostante inviti alle passeggiate non ci soddisfa, in quanto c'è poca gente al mercato, secondo noi dovuta a queste quarantene non solo per i positivi, ma anche persone negative che vaccinate devono stare a casa in quarantena e quindi è un grosso danno per noi commercianti. Non solo qui al mercato, ma anche in centro purtroppo è la stessa cosa, non c'è gente in giro e quindi siamo messi peggio dell'anno scorso che non c'erano i vaccini ed eravamo in zona gialla e arancio. È vero che le terapie intensive sono vuote, però purtroppo a livello commerciale è un disastro. Magari Pesaro è un po' particolare perché il mercato, la zona è quella che è, però di fatti si vede la differenza con la terza domenica che siamo in centro e anche se a gennaio il mercato c'erano i saldi, però c'è più gente, c'è più voglia di comprare, c'è più armonia. Qua è un po' dispersivo, si sa, è così, ormai è così. È una stagione molto misera, molto asciutta, molto povera. Purtroppo le cose al mercato non funzionano bene, un po' perché la gente ha paura di questo Covid, è comunque molto spaventata, un po' perché il mercato ha bisogno di essere sistemato, perché è un mercato dispersivo, perché comunque mancano gli ambulanti per tanti motivi, quindi è una stagione alquanto povera, mi sento di dire. Dico solo che il mercato va un po' accorpato e dispersivo perché molte vie rimangono per la metà vuote di banchi e giustamente la gente non è invogliata a entrare nelle vie dove magari vede solo 4 o 5 bancarelle. Quindi secondo me c'è un problema proprio anche di riqualificazione del mercato, non sto dicendo di diminuire gli spazi, ma di fare una riqualifica.